Salve a tutti! Che cosa ha di speciale la teologia cristiana? In effetti, come abbiamo visto nella precedente pillola, una riflessione su Dio appartiene in qualche modo a tutti gli uomini che cercano un senso del mondo e della loro vita. Per Aristotele la teologia era parte della filosofia, la filosofia prima. La teologia quindi non è di per sé qualcosa di tipicamente cristiano e questa è una delle ragioni per cui nei primi secoli, quando i cristiani volevano parlare della propria teologia, ciò che oggi chiamiamo teologia, usavano altre espressioni, per esempio dottrina cristiana o sacra dottrina. Ecco, è per questo che ora ci chiediamo che cosa c'è di speciale, di particolare nella teologia dei cristiani. Ora ricordiamo che la conoscenza che tutti i uomini possono avere di Dio si basa sul mondo e sull'uomo. La ragione umana, a partire dal mondo che ci circonda e dall'interiorità dell'uomo, riflette per arrivare ad una qualche conoscenza di Dio. Un tale procedimento però può lasciare l'impressione che il discorso su Dio sia un'invenzione, una proiezione o perlomeno una ricostruzione dell'uomo, sempre e comunque a misura della ragione umana. Rispetto a questa problematica, in che modo la teologia cristiana è diversa? Allora, in primo luogo vi è la grande pretesa che sta alla base della fede e della teologia cristiana che Dio si sia rivelato. E' a partire da questa rivelazione che Dio fa di se stesso che l'uomo può conoscere, comprendere e parlare di Dio in un modo qualitativamente diverso. La teologia, che è la conoscenza di Dio, sarebbe prima di tutto la conoscenza che Dio ha di se stesso e che poi comunica a noi rivelandosi. Le parole greche Theos e Logos che compongono teologia sarebbero da interpretare in un nuovo modo. Ecco, non è non tanto il nostro discorso su Dio, quanto il discorso di Dio all'uomo. Ecco, questo ci porta a considerare un secondo punto. Ecco, abbiamo appena detto Dio parla all'uomo. Il fatto della rivelazione coinvolge questa relazione personale, afferma una relazione personale che Dio stabilisce con l'uomo e questo è già un fatto sconvolgente. Implica già che la divinità non è una potenza impersonale, bensì uno spirito personale. Noi sappiamo trinità di persone e ciò significa che il nostro discorso su Dio non può prescindere da un dialogo con Lui, da una parola che Lui ci rivolge e che chiama tutti noi a rispondere in modo personale. Ecco, il carattere personale di Dio porta il discorso su Dio su tutt'altra dimensione da quello della filosofia. Cerchiamo di chiarire meglio aggiungendo una spiegazione. Quando noi vogliamo conoscere un oggetto normale, no, è sufficiente osservarlo, no? Magari faremo qualche esperimento per conoscerne meglio le proprietà e così poterlo conoscere più a fondo. La conoscenza filosofica di Dio, per certi versi, è affine a questo modo di conoscere. Quando invece noi conosciamo una persona, la situazione è ben diversa, vi è una profondità completamente diversa. Se la persona non si rivela a noi, se non si esprime liberamente comunicando in un rapporto personale, parlando, ecco, la sua interiorità rimane oscura, inaccessibile, ecco, ci sfugge. Ecco, questo vale anche per Dio. Anzi, tanto più vale per Dio quanto Dio supera tutte le realtà di questo mondo, no? Tutte le realtà finite. Ecco, ciò ci porta ad una terza considerazione, no? Una considerazione che segna una differenza proprio tra la conoscenza anche delle persone umane finite come noi e quella realtà personale che è Dio, la Trinità delle persone divine. Ecco, di per sé, tra l'uomo e Dio, vi è l'abisso di una sproporzione infinita. Ecco, una differenza incolmabile. Non si riesce, umanamente, a passare questo iato tra il finito e l'infinito. Secondo Friedrich Schleimacher tutte le religioni si baserebbero proprio sul sentimento di dipendenza che emerge di fronte all'intuizione di questa sproporzione tra la nostra finitudine e l'infinito che può apparire a noi quando ci poniamo di fronte a tutto il cosmo, tutta la realtà nel suo insieme. Ecco, la rivelazione di Dio, però, è qualcosa di diverso da questo sentimento religioso. Dio stesso, nella rivelazione, stabilisce una relazione, getta un ponte, un canale di comunicazione tra l'infinito e la nostra finitudine. Ed è solo così che è possibile una conoscenza di Dio che sia all'altezza del suo oggetto. In sintesi, possiamo dire che la teologia cristiana è speciale e diversa da un discorso filosofico, da un discorso religioso su Dio, per il fatto che si fonda su questa autorivelazione di Dio che ha la sua pienezza in Gesù Cristo, nel Figlio di Dio fatto uomo, il Verbo incarnato. Ecco, tutto ciò ovviamente merita ulteriore riflessione, ma vogliamo, in chiusura, attirare l'attenzione su un paio di problemi collegati. In primo luogo, diciamo così, che per riconoscere la rivelazione è necessaria la fede. A questo proposito, San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primissimo scritto del Nuovo Testamento, dice così. Ci rendiamo grazie a Dio continuamente perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Ecco, da questo testo si capisce, si desume che non è scontato che la rivelazione di Dio sia accolta, riconosciuta come tale. Ecco, questo apre una problematica che sarà da approfondire. Una seconda questione è che la pretesa della rivelazione di Dio avvenuta in Cristo deve confrontarsi, in qualche modo, sia con lo scetticismo di chi nega qualsiasi rivelazione, sia di analoghe pretese di altre religioni, di altre forme di rivelazione, di manifestazioni divine presenti in altre esperienze e realtà religiose. Ecco, se la teologia cristiana è caratterizzata da questo fondamento nella rivelazione divina, bisognerà affrontare la questione, affrontare il problema della validità di questa pretesa. In base a cosa dobbiamo rispondere, in base a che cosa possiamo sostenere che Gesù Cristo è la pienezza della rivelazione di Dio? Ecco, avremo modo in futuro magari di parlarne. Un saluto a tutti e alla prossima!